Ciao a tutti ragazzi della community di Alifax Italia, oggi abbiamo qui la bandiera vivente della fede nera azzurra. Ma si esageriamo. Filippo Tramontana è con noi per parlare abbastanza del deb. Come è andato? Mi fai un po' abbattanduolo. Sì, ma che cosa ne pensi? Ma il deb per noi interisti è andato anche abbastanza bene, avevamo in panchina il mancio e quindi già quello andava bene. E poi abbiamo pareggiato con Joey Robby. Tac, e tac, poi sai, tu vedi che vedi il derby, no? Arriba ai shawi davanti alla porta, sei sull'1-1, immagino tu in quel momento cosa, già ti pregustavi il gol del 2-1, io già mi pregustavo la fregatura, poi vedi la palla che davanti alla porta sale, super a portiere, attraversa. E dici, vabbè non lo perdo questo derby. E vabbè abbiamo pareggiato da una bella, è una... Tu avresti fatto qualche scelta particolare per cercare un pochettino di cambiare la situazione o secondo te le scelte che sono state fatte in campo sono state... Mi stai prendendo in giro. Ma chi è? Ah, mi stai prendendo in giro. Abbiamo 11 giocatori contati, secondo te che c'è poi il mancio non sbaglia mai. Non sbaglia mai, quindi va bene così. Poi siamo in pochi, sai anche cambiare uno o l'altro, il panchino degli analisi che è entrato dopo, mezzo rotto, poca gente, dobbiamo recuperare tutti, quindi va bene così. Allora, per recuperare io ti dico una cosa, perché io ti faccio un omaggio, un gentile omaggio, così te lo puoi giocare te stè direttamente sulla PS4. Facciamo una cosa, la giochiamo io e te, tu sei milanista, io sono interista, la giochiamo io e te così ti do una bella mazzata, anche se mi sa che lui è bravo, però facciamo che mi fai vincere e quindi l'Inter vince il derby. Va bene dai, ci sto, ci sto. Allora alla prossima volta, quanto di sfida lanciato? Filippo contro il pettinato. Ciao ragazzi! Ciao!